La ripresa del turismo in Puglia dopo lo stop causato dalla pandemia lascia ben sperare. Ne sono convinti gli operatori del settore che in questo momento stanno puntando alla valorizzazione e alla riscoperta dell'autenticità dei luoghi di interesse turistico del territorio. Vediamo. Possiamo dire che anche la situazione progressivamente sta tornando alla normalità. Anche se c'è ancora un po' di timore viaggiare anche dovuto ai costi in generale della congiuntura economica. Però c'è voglia di evadere, c'è voglia di conoscere luoghi e borghi nascosti legandosi alle proprie origini e radici. Il turismo e quindi anche le professioni turistiche tornano a respirare dopo tre anni anche di chiusure. Quali sono gli scenari futuri? Principalmente il nostro luogo è fatto di, in particolare il nostro territorio, di luoghi autentici. Luoghi di riscoperta dei cammini, quindi la natura, l'aspetto dei borghi e poi anche l'enogastronomia. Da parte nostra di operatori turistici quello che ci annunciamo, in particolare vogliamo svolgere, è quello di offrire servizi con professionalità, combattere l'abusivismo, perché spesso per fare il nostro lavoro è necessario avere dei requisiti, anche delle esperienze, perché accompagniamo persone. Quindi quello che ci auspichiamo nei prossimi mesi raggiungere è proprio l'autonomia anche sulla professionalità e fare sempre attività nuove. Spesso in questi territori le professioni turistiche non si formano sulle lingue straniere. I punti di forza principalmente sono il territorio che spesso è ancora poco conosciuto, quindi abbiamo dei luoghi autentici, ancora selvaggi, quindi vergini dal punto di vista turistico e quindi è proprio questo che cerca il turista, l'autenticità.